Domani, venerdì 26 ottobre e dopo domani, sabato 27 ottobre, a partire dalle 17, tra la Sala Polifunzionale della Provincia e la Biblioteca Delfico, la Corte Interna della Biblioteca, si svolgerà la manifestazione Incanto, la bellezza dei beni culturali. Di che si tratta? Sì, si tratta di una manifestazione che noi amici della Delfico abbiamo voluto organizzare innanzitutto per festeggiare il nostro venticinquesimo anno di attività accanto alla Biblioteca, di cui abbiamo sempre inteso valorizzare, promuovere e divulgare il patrimonio. In questi due giorni, tre saranno i momenti importanti. Il primo momento della tavola rotonda, appunto, di domani pomeriggio, con illustri ospiti che declineranno il concetto della bellezza tra costituzione, paesaggio, beni culturali e anche la bellezza morale che risiede nella nostra conoscenza e nelle attività di tutte le associazioni. Sabato ci sarà una mostra che valorizzerà un fondo pregevole di caricature di Gennaro della Monica. La mostra alla Corte Interna? Sì, esattamente. La Corte Interna della Biblioteca. Ci sposteremo successivamente nuovamente alla Sala Polifunzionale, dove avremo un concerto finale preceduto da un saluto di Luigi Ponziani, che è stato socio fondatore e anche ideatore 25 anni fa, raccogliendo attorno alla biblioteca, ecco, un gruppo di amici che, appunto, potessero mettere in atto l'azione che gli amici della Delphico in questi 25 anni hanno fatto. Dunque, l'appuntamento con incanto è per domani e dopodomani, sempre a partire dalle 17. Sempre a partire dalle 17. Vi aspettiamo numerosi per stare insieme e godere della nostra bellezza.